La nostra impresa è la Iniz Zuccherini. Il nostro prodotto è lo zuccherino casareccio tipico dell'appennino bolognese. In particolare lo prepariamo nella ricetta tradizionale di Castiglione dei Peppoli, rifacendoci a quanto le nostre bisnonne cucinavano in occasioni particolari, come matrimoni o battesimi. Si tratta di un biscotto ricoperto da una glassa di zucchero, aromatizzato con limone e anice. La forma è rotonda, una ciambella in miniatura. A solo vederlo la velocità si scatena. Il nostro prodotto è valido dal punto di vista della qualità degli ingredienti. Li scegliamo e li selezioniamo tra quanto si produce nel nostro territorio. Uova, farina e latte sono i nostri punti di forza. Il prodotto è rivolto a grandi e piccoli. In particolare una versione dello zuccherino utilizza quantità ridotte di zuccheri, quindi può essere consumato anche da persone attenti alla linea. La genuinità del nostro zuccherino, la cura nella sua preparazione, lo rendono competitivo nel mercato. Mangia poi gli zuccherini con la glassa. Tranquilli, non si grassa! Io sono Federica, Roberto, Giulia, Ilaria, Jacopo, Carola.